Il sole bacia belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Non credo che si tratti di pretattica, giocheranno con il 3-5-2. È un modulo che esatta le caratteristiche di quei giocatori esterni abiti sia in difesa che in attacco, ma qui è il centrocampista centrale, l'uomo di pubblico per Antonio Masa. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retrogarra, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampio. L'utilità di buoni e volontà di correre veloce più bisogno sono caratteristiche fondamentali in questo caso. Partiti. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il portiere è la calcia allontana. C'è un bel pallone per lui. E cade un offside da Guadagnini. Fior di Lino. Palla nello spazio, attenzione. Occasione d'oro. Ci prova. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per Dio. Fior di Lino. E abbiamo già superato il quindicisimo. Scatta verso il pallone. Bell'uno due. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E ha lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Lotta per dell'equilibrio. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Allarga il gioco. Costa. E passa. Buon recupero anche se... Siamo ancora sullo 0-0. Si sta giocando da mezzola. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Fior di Lino. Fior di Licioli. Alla peggio nello scontro di forza. Si libera da grande. Perde il duello fisico con l'avversario. Ha provato l'azione individuale senza successo. Prova la conclusione. Si sbuocca il risultato. E segnano il primo gol dell'incontro. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza. Ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. E il risultato si sblocca. 1-0. Questo gol li porta in vantaggio. Ma manca ancora molto tempo. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Allontana la palla. Hanno già riconquistato palla. Palla in avanti verso il compagno. Il primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora. Ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. L'azione è già ripresa. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Vuole tirare. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. La allontana con forza. Gioca con il pallone lungo. Ci mette in fisico e con questo è il pallone. Una scivolata abbastanza dura. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a metterci il piede. L'avversario ha avuto la meglio. Modolo. Tocco preciso. Grande prova di forza. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Questo è fallo. Non ha dubbi l'arbitro. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Situazione spinosa ma il suo intervento è stato provvidenziale. L'appoggia sulla fascia. Grande movimento nello spazio. La toglie dalla porta. Cerca la profondità. Degel senza compromessi. Intervento deciso. Tutto regolare se dobbiamo l'arbitro. Da lì può segnare. Conclusione. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. È un momento cruciale per entrambe le squadre. E il portiere farà di tutto. Deve riuscire nel miracolo. Non sbaglio dal dischetto. Frecchissimo. Ha mantenuto i nervi saldi. Freddissimo. Lo ha fatto sembrare facile. Grande freddezza. La toglie. La toglie. La toglie. Alla. La toglie. La toglie. La toglie. Perfetto a parità dunque. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. La metti in avanti. La gioca in profondità. Passaggio intercettabile. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incomiabile. Fallo. Calcio di punizione. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. vuole la profondità. Qui può partire il contropiede. Se ne va. Grande occasione. Prova il tiro. Un gol pazzesco. Pazzesco. Un gol che palla da solo. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Bravissimo lui. E bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Sembra che è mista e voglio fare un altro caso. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Qualche istante sarà tutto finito. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Cerca l'uomo là davanti. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. E hanno dimostrato veramente grande capacità oggi. Rimanendo concentrati in un momento più difficile. E portandosi a casa la gara. Un finale in cui è successo di tutto. E sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava... Grazie a tutti. Grazie a tutti.